Il dottore della legge, nella pagina del Vangelo, fa una domanda a Gesù e dice Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Sappiamo subito che è una domanda provocatoria, vuol mettere Gesù in difficoltà, invece Gesù supera l'ostacolo con molta facilità in quanto risponde e mi domandi, tu hai fatto gli studi nella Sagra Scrittura e tu stesso puoi dare una risposta e a questo punto il dottore della legge si trova un po' con le spalle al muro e fa una replica, un'aggiunta alla domanda Ma chi è il mio prossimo? E qui Gesù dà una risposta con una parabola, una parabola classica che tutti conosciamo, tanto bella E dobbiamo essere grati al dottore della legge che spinge Gesù a dare una spiegazione di chi è il prossimo nella parabola, quindi già accennato, del samaritano Gesù nel racconto della parabola, fa passare vicino a un mercantiere che viene in cappa nei briganti che gli rubano tutta la mercanzia, lo bastonano e lo lasciano mezzo morto per terra Gesù fa passare vicino a questo malcapitato vari personaggi e principalmente proprio all'inizio fa passare un sacerdote del Tempio di Gerusalemme e un levita sempre del Tempio Voi potreste anche dire, eh sì Gesù ce l'ha messo di proposito questi due perché si sono comportati male Si sono comportati male questi due che sono passati vicino al malcapitato perché non si sono fermati ad aiutarlo Non perché fossero cattivi o avessero fretta, no, è perché la legge glielo impediva Se avessero toccato quel povero uomo stesse per terra che gruntava sangue e le loro mani si fossero sporcate di sangue andando al Tempio non potevano compiere il sacrificio rituale perché le mani erano diventate impure E anche perché la legge aveva questo di preciso Prima Dio e poi l'uomo E Gesù scavalca questa legge e dice Prima l'uomo e poi Dio E quindi passano vicino a questo povero malmenato e vanno via Passa un samaritano, un nemico politico di questo povero uomo A compassione lo prende, lo mette sulla cavalcatura, lo porta in città a Gerusalemme E lo porta in una locanda, lo affida all'ocantiere e paga già un anticipo per le cure che avrebbe dato a questo povero uomo E poi dice lo curi bene, quando io ritorno salderò tutto il conto e va via Potremmo anche immaginare a questo punto, non per completare la parabola di Gesù che non ha bisogno delle mie parole Però potrebbe essere comodo intellettualmente e anche praticamente Pensare che quel samaritano che lascia il ferito in una locanda Anziché preoccuparsi di vendere la sua mercanzia Anziché pensare agli affari di commercio per cui si trovava in viaggio Tralascia tutto e va in cerca dei briganti Per dirgli non si fa il male nella vita Quella persona che avete lasciato morendo sulla strada Quella è una persona figlia di Dio come te e come me Tu rispetti anche Dio, vai anche alla sinagoga, parli con Dio, parli con la Sagra Scrittura Non è così perché la tua azione ha offeso Dio Quell'uomo è amato da Dio e tu hai fatto una sfesa grave a Dio Prima l'uomo e poi Dio Prima l'uomo Prima l'uomo